Mi ricordo che era il primo giorno di lavoro e come dicevo eravamo aggregati al reparto di controllo di qualità, quindi eravamo 7 persone in questo gruppo, questo gruppo si chiamava D.S.A.T. del settore radiografico che vuol dire divisione sperimentale e assistenza tecnica, evidentemente stavano creando un nuovo servizio tecnico per il settore radiografico. Io mi ricordo che in questo laboratorio non avevamo delle scrivanie, ci allocavamo in sale normali oltre alle camere oscure chiaramente, non avevamo un posto di lavoro fisso, però questo laboratorio dopo pochi mesi viene trasferito, e questo credo sia molto importante da segnalare, trasferito in un'altra palazzina nell'area dove si facevano i prodotti chimici. In questa nuova palazzina avevamo un vero e proprio laboratorio, perché al piano terra di questa palazzina avevamo al lato sinistro tutti gli uffici, al lato destro una sala riunioni, il nostro servizio finalmente prendeva forma. Ovviamente stiamo parlando di un periodo in cui ero in laboratorio, non ero sul campo per avere dei giudizi anche dal radiologo. Noi abbiamo imparato a valutare la qualità dell'immagine su un'immagine non clinica, ma clinica era, dal punto di vista fotografico, non certamente dal punto di vista clinico, anche perché queste ossa non avevano delle patologie, ma assorbivano i raggi X come li assorbono i pezzi anatomici reali, un cranio vero, avevamo il cranio, le mani, i piedi, l'addome, tutti i pezzi anatomici del corpo umano. Quindi noi valutavamo come dei fotografi delle immagini radiografiche e le correlevamo, come dicevo, con gli aspetti prettamente fotografici. Ovviamente, dato che noi eravamo deboli sul mercato, avevamo dei riferimenti. In questo caso erano i concorrenti più importanti del mercato che erano Kodak, Acfa in quel tempo, DuPont e Fuji, questi erano i 3-4 concorrenti più importanti che avevano poi una market share più alta sul campo, perché noi 3M e Ferrania in quel periodo avranno avuto il 12% della market share, quindi molto debole, mentre Kodak avrà avuto come minimo il 30-35, poi se lo dividevano gli altri, il restante. Quindi quello che mi mancava, che ci mancava probabilmente, era proprio il contatto con la parte esterna. Noi non avevamo alcun contatto con i radiologi, se no settimanalmente una riunione che facevamo, che era indetta dalla produzione, sui reclami. Questa riunione reclami dove noi ricevevamo i problemi riscontrati dal cliente, analizzavamo la produzione, la ricerca, il controllo di qualità e noi canalizzavamo questi reclami, però noi non avevamo un contatto con l'utente e questo credo che fosse una grossa mancanza per un laboratorio che si chiamava in quel momento DSAT, Divisione Sperimentale Assistenza Tecnica, perché non avevamo il feedback di quello che era l'occhio clinico, non l'occhio fotografico, come potevamo avere noi. Questo lavoro a me non piaceva perché io da tempo stavo dicendo ai miei superiori, ma quando è che cominciamo a… noi non potevamo starcene ad avere un contatto esterno indiretto solamente perché il venditore ci portava un reclamo o perché arrivava un reclamo settimanalmente e ne arrivavano molti in quel periodo, senza avere il feedback diretto dell'utente. Per cui io dopo un anno e mezzo, esattamente me lo ricordo perché era in luglio del 1968, io un giorno prendo e parto, vado a Roma, vado a fare un colloquio per una dita farmaceutica e questi mi assumono. E mi assumono. Io torno a Ferrania, vado nel mio superiore e gli dico guardi, io da settembre sto a casa, vado in un'altra azienda, oltretutto era per l'area di Savona, in una dita farmaceutica molto importante per cui io ero ben contento di cambiare lavoro. E lui mi disse, mi dia tempo due settimane perché stava maturando questo servizio di persone all'interno del laboratorio, non solo io ma anche altri, che avrebbero dovuto supportare clienti sul campo. Dopo due settimane io ero in Veneto, Veneto e Emilia Romagna, sono state le mie prime due settimane che ho fatto sul campo. Quindi io avevo colleghi venditori che mi portavano agli ospedali, potevo vedere sul campo veramente come fosse organizzato un reparto di radiologia, perché noi non potevamo immaginare quello che realmente faceva un tecnico di radiologia, un radiologo o un fisico sanitario, perché poi si cominciavano, apparivano anche i fisici sanitari a quei tempi. Per cui è stato uno stravolgimento del mio lavoro, con enorme piacere da parte mia, perché io passavo il 50% del mio tempo sul campo, stavo in giro una settimana, l'altra settimana stavo a Ferrania e avevo i miei contatti con i venditori che mi chiamavano se avevo bisogno, così come me, però anche altre persone. Devo dire che c'erano anche altre persone, infatti c'eravamo un po' divisi l'Italia, io facevo prevalentemente il nord-est, l'Emilia Romagna, le Marche, mi ricordo altri facevano il centro-sud, altri la Lombardia per esempio, per cui il lavoro è cambiato radicalmente. La cosa più interessante per me in quel periodo è stata proprio quello che dicevo prima, la possibilità nel momento in cui hai da risolvere, se tu hai da risolvere un problema tecnico e lì non c'è problema, il cliente è arrabbiato, tu devi risolvere il problema, ma nel momento in cui tu devi valutare un'immagine, perché poi noi facevamo anche delle, tentavamo di vendere anche con il venditore, allora lì era il momento in cui sul negatoscopio si dovevano valutare le immagini dal punto di vista clinico e io ero un po' preparato, però non ero certamente all'altezza di competere con dei radiologi che avevano un'abitudine giornaliera a leggere mille, un sacco di immagini cliniche, per cui ho imparato tantissimo in quel periodo, perché ho capito intanto il linguaggio loro che è totalmente diverso dal nostro, ma solamente mettere la radiografia sul negatoscopio, se io metto la radiografia sul negatoscopio col cuore all'opposto, il radiologo mi guarda con un'aria e mi dice ma questo tu non capisci niente, allora la prendeva e la girava, ti faceva subito capire che tu non capisci, che tu non sai qual è il meccanismo, quindi ho imparato tutte queste cose a forza di stare sul campo e a forza di parlare con i radiologi e i tecnici e poi tutto il processo, tutto il flusso di lavoro che c'è, la diagnostica che fa lo scheletro, la diagnostica che fa il torace, questo è servito tantissimo perché poi quando parleremo di quelle che sono state delle innovazioni di 3M, si vedrà come queste sale diversificate siano state poi ideali per vendere meglio i nostri prodotti. Quando eravamo all'interno del laboratorio ci rendevamo conto che avevamo una piccola fedza del mercato, ma perché avevamo prodotti deboli e pochi anche. Dopo due anni abbiamo messo in campo una sviluppatrice automatica, quindi 68-69 abbiamo commercializzato una sviluppatrice automatica e direi che la cosa più importante che emerge poi dopo è quello che succede poi all'inizio degli anni 70 e qui c'è infatti una pietra miliare che bisogna sottolineare di quello stabilimento, perché è una scoperta fatta a Ferrania, da personale della ricerca di Ferrania che ha dato una svolta al mercato radiologico di quegli anni e sto parlando di un sistema Trimax, 3M Trimax, questo sistema, questi ricercatori cosa avevano fatto? Avevano studiato diverse fosfori che sono i componenti che devono convertire raggi Trimax in luce e mi ricordo che loro avevano messo, ed era una fotografia che la facevamo per ascioccare anche l'uditorio, in questo caso non erano esteri ma erano diciamo team interni, dove tante polverine sulle citate Regix che avevano uno spettro diverso, da rosso a verde eccetera. Tra questi ne scelsero uno queste persone, questo laboratorio, che era un fosforo alla terra rare, l'ossiosolfuro di gadolinio, questo ossosolfuro di gadolinio si è messo in concorrenza con il tungstato di calcio che era il fosforo utilizzato per fare gli schermi di tutte le ditte di quel tempo, cioè tutte le ditte che fabbricavano schermi usavano il tungstato di calcio che metteva luce blu violetta, al contrario di questo sale che metteva una luce giallo verde, 550 nanometri mi pare di ricordare. La cosa che era eclatante quale era però? Era che questo aveva un'efficienza 7 volte maggiore del tungstato, questo si traduceva in una cosa fondamentale che era quella della riduzione della dose al paziente, quindi questo è stato uno smacco per tutti i nostri concorrenti, nessuno aveva mai utilizzato, nessuno aveva mai scoperto l'ossiosolfuro di gadolinio come fosforo per fare degli schermi di rinforzo, da quell'anno lì Faradio cominciava, parlo del 73 più o meno, tutta una linea di prodotti nuovi che erano schermi di diversa rapidità e qui si ricollega a quello che dicevo prima, c'era lo schermo ad alta definizione usato per lo scheletro, lo schermo ad alta sensibilità usato per il tubo digerente e così via, uno schermo intermedio per lo scheletro di grandi spessori, il cranio piuttosto che le ginocchia, quindi tutti questi schermi di rinforzo potevano essere utilizzati nelle diverse sale di diagnostica, c'era una forte componente di educazione per gli utenti, perché l'utente non era abituato a dire io qua uso uno schermo, là un altro, il tecnico di radiologia vuole essere pratico nel suo lavoro, non deve pensare, però noi ne abbiamo istruiti piano piano e alla fine il radiologo non poteva accettare questa soluzione, la dose veniva ridotta quasi a 8 volte.